Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Esami facili ed esami difficili. Quali tra questi bisogna dare prima? C'è un ordine oppure no? Oggi voglio parlarti proprio di questo e quindi, come da titolo, cerchiamo di affrontare il tema generale della difficoltà degli esami, soprattutto non come studiare un testo più difficile rispetto a uno più facile, più delle volte è necessario precisare come studiare i primi, perché secondi per definizione sono più semplici da gestire. Quello che cerchiamo di capire insieme è il fatto che talvolta sapere quando studiare una materia è importante tanto quanto saper come studiarla e quindi da questo nasce il tema di oggi. Quindi è meglio andare in modo crescente, proprio in termini di difficoltà o in maniera decrescente, sempre negli stessi termini. E quindi vediamo quali sono i pro e i contro di ciascuna di queste due opzioni. E partiamo dal primo caso, cioè dall'ordine crescente di difficoltà. Una cosa che voglio precisare, ed è molto importante, è il fatto che quando scegli un ordine devi seguirlo per le varie sessioni. Questo è quello che ti consiglio di fare, di mantenere un ritmo nel modo in cui gestisci le materie, di non andare a caso. Quindi che la tua scelta verta di più sull'ordine crescente che è qui davanti o l'ordine decrescente che vedremo dopo, in ogni caso la cosa fondamentale che tu sappia è che non devi cercare di andare così come ti trovi in base alla giornata, quindi andare un po' a caso, ma scegliere esattamente un ordine, quindi una sequenza ben precisa. In questo caso abbiamo davanti quindi la sessione numero 1 e la sessione numero 2. Te l'ho portata entrambe davanti, non sto dicendo quella invernale, quella estiva o quella di settembre, poco prima che cominci l'anno accademico successivo. La cosa fondamentale è capire che in più di una sessione, se scegli un ordine, cerca di rispettarlo. Questo ti darà un ordine, una pulizia mentale fondamentale per ottenere dei buoni risultati a lungo termine. Ora, come vedi, ho quindi rappresentato in entrambi i casi, quindi basta guardare uno, la sessione numero 1 e la stessa cosa vale anche per l'altro, ho rappresentato con tre colori diversi, questi tre rettangoli, più o meno alti, anzi esattamente in ordine crescente, sia di altezza, che raffigura quindi l'ordine crescente di difficoltà. Quindi il rettangolino in verde rappresenta la materia più facile, quella in azzurro, quella medio facile, medio difficile, quindi una via di mezzo, e quella in arancione, più oscuro, quindi potremmo dire questo rossiccio, la materia più difficile. Come vedi, quindi, l'ordine di difficoltà è crescente. Quali sono i pro e quali sono i contro di quest'opzione? Il pro è il fatto che inizi in modo tranquillo, quindi non ti trovi davanti una montagna da riuscire a superare, perché inizi dalla materia più facile. È più facile prendere il ritmo di studio, è più facile mantenerlo, è più facile prendere dei voti più alti, perché la materia è più facile e quindi ti motiva maggiormente allo studio. Di conseguenza è come se lo sforzo che fai, l'impegno che devi investire, cresca di volta in volta a poco a poco, senza pretendere di arrivare subito al massimo della performance, possiamo dire. Quindi questo vale sia nel caso della prima sessione che della seconda sessione in modo esattamente uguale. Qual è il contro? Che quando ti trovi alla fine della sessione hai già fatto la prima e la seconda materia e quindi cominci ad accumulare una certa stanchezza, soprattutto se hai studiato in modo corretto, hai investito il giusto tempo, il giusto impegno necessari e anche sufficienti per riuscire a ottenere i risultati che ti sei prefissato, o che ti sei prefissata. Quindi questo è fondamentale. Hai accumulato una stanchezza che è fisiologica e normale ed è anche meritata, possiamo dire normale, tu si è stanco o si è stanca e quindi arriverai a fare la materia più difficile in una condizione, da un certo punto di vista, più precaria rispetto a quella che vedremo essere l'opzione successiva, quindi l'ordine decrescente di difficoltà. Quindi queste sono le caratteristiche principali e ti consiglio di scegliere, quindi qui arriviamo già a una risposta al video di oggi. Io ti invito a non pensare per risposte assolute e quindi per posizioni assolute. Non c'è un giusto in assoluto, non si comincia sempre dalla più difficile, sempre dalla più facile o viceversa. Devi invece ragionare in base alle risorse che hai a disposizione. E quindi questa è una delle due opzioni. L'ordine crescente. Sceglila se ti viene più difficile mantenere un ritmo di studio, se comincia ad essere anche demotivante la semplice idea di dover studiare la materia più difficile fin da subito e quindi man mano sai che puoi accumulare quel ritmo anche nelle giornate di studio, sempre tenendo d'occhio il fatto che l'ultima materia, quella più difficile, è quella che ti metterà nella maggiore difficoltà, oltre alla difficoltà della materia stessa, proprio perché è quella materia che avviene quando già lo sforzo, la maggior parte dello sforzo è stato fatto e la maggior parte della stanchezza è stata accumulata. Quindi questa è la prima opzione. Passiamo alla seconda. Come vedi ci saranno un po' di complementarità tra i due casi. Questo è il caso opposto. E quindi qual è? Abbiamo un ordine decrescente di difficoltà, il grafico è per se poco lo stesso, la posizione delle materie in azzurro, quelle quindi di difficoltà media sono identiche, quelle che vengono invertite sono la materia più difficile e la materia più facile. Come vedi, guardiamo alla sessione numero 1, e anche in questo caso, ti ripeto, vale per la sessione numero 2, ma è importante che ti ripete che l'ottica che cerchi di acquisire e sviluppare venga mantenuta per avere un ordine in quello che fai. E quindi, partendo dalla sessione numero 1, vediamo che la prima materia è quella più difficile. Questo possiamo dire è un po' il ragionamento di chi preferisce levarsi il pensiero subito di fare la materia più difficile e poi affrontare, come ci suggerisce anche un po' la freccia, un percorso un po' in discesa. Quindi se ti senti nelle condizioni di fare lo sforzo immediato, come se fosse uno sprint, e poi poter mantenere quel minimo impegno necessario, quello sforzo sufficiente a mantenere una buona qualità di studio e soprattutto riuscire a ottenere gli obiettivi, allora questa opzione, l'opzione di un ordine decrescente di difficoltà, fa al caso tuo. Ovviamente però questa scelta deve essere anche supportata da qualcosa che tu fai in modo così consapevole, perché ovviamente questo vuol dire che se non ti impegni abbastanza per la prima materia e la prima materia non va bene, in casi anche più gravi possiamo dire vieni rimandato o rimandata, questo può avere un effetto non solo perché la materia non è stata superata e quindi rimane indietro, ma perché hai da fare anche le altre due, quindi si accumula un po' il peso. Quindi questo dell'ordine decrescente, a mio avviso, è quella che ti mette davanti la maggiore difficoltà generale, non solo della materia, in un primo momento, che poi però si trasforma in una maggiore leggerezza dopo, con un maggiore rischio. Quindi qui possiamo dire che hai più rischio e dei maggiori vantaggi. Se invece vuoi optare per una soluzione un po' più fluida, in cui inizi a gestire le risorse e poi man mano vai a crescere fino a che arrivi alla fine della sessione a preparare la materia più difficile, allora scegli l'opzione numero uno, quindi con l'ordine crescente. Quindi questo era quello che ti volevo proporre, se hai dei dubbi, della certezza o mi vuoi porre qualche domanda più specifica, come ti dico ogni giorno, scrivi nella sezione dei commenti oppure puoi scrivermi anche in privato attraverso i link che trovi in descrizione. Il video di oggi finisce qui e quindi ti invito a iscriverti al canale esclusivamente se ritieni di prendere con serietà il tuo percorso universitario perché qui non troverai delle scorciatoie semplici per non fare nulla e ottenere i massimi risultati, cosa che è pratica e soprattutto fattibile in rarissimi casi, ma noi dobbiamo andare sulla quantità di risultati ottimi, non una volta ogni tanto e quindi questo è un requisito che ti invito a considerare e se ritieni di voler ottenere davvero il massimo a livello universitario allora a quel caso trovi tantissime risorse, intesi proprio come centinaia di video già presenti nel mio canale. Quindi io in ogni caso ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie a tutti.